Come sempre prima di iniziare ci tenevamo a ringraziarvi per il supporto che date sempre a queste serie Mi raccomando continuate a supportarci, quindi lasciate mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella Fatelo soprattutto se volete che questa serie continui fino alla fine del campionato Ma no, per la prossima stagione direi ormai Buona visione Dai col video Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti Mi piace, iscrivetevi, attivate la campanella Se non lo fate è piena cacarella di quelle che vi rimane per una settimana Se sa mai Se sa mai Io fossi in voi lo farei anche perché andano in giro con le chiappe sozze Non eravate direi che non è proprio Hai visto i video di quelli che sa perdono Cose veramente simpaticissime che gli ha lasciato La simpatia proprio Fate voi Due canali di calcio e un extra calcio Tutto in descrizione o come sempre i canali compariranno qui durante il video Frosilone Inter 2 Vabbè questa è presa, non stava niente per questa Almeno Napoli-Bologna gol Napoli-Bologna Fino a 2-0 per Bologna Milan-Cagliari-X2 Eh no, direi che no Lazio-Empoli-X2 No! Lazio-Empoli no Gelo-Sassuolo-1-X Sì Verona-Torino-1-X Sì Presa Perché ho messo che è sbagliata? Perché era passato un vantaggio al Verona No No, non l'abbiamo presa, no Scusa Ha vinto il Verona Ha vinto il Torino 2-1 Ah sì perché ho detto Oh me sta ambria che ha peggio Dele ingolano a capodanno Io vengo a salernità 1 Atalanta-Roma gol Purtroppo sì Lecce-Udinese-1-X Sbagliata No, 2 Fiorentina-Muza-X2 1 Cioè ne abbiamo sbagliate Per una di quelle che hai preso 3 ne abbiamo prese Vi confermo che solo No, non abbiamo fatto peggio Abbiamo pareggiato la nostra peggiore situazione 3 su 10 C'è posta ogni tanto Che non le vecchia una manca come spai Diciamo che abbiamo rischiato tanto Anche su alcune di quelle sbagliate L'avevo detto Non ero d'accordissimo Ma non mi ricordo che avevi detto Non è detto che l'hai beccata Fiorentina-Napoli Nuova giornata 37 Gol 0-0 Lecce-Atalanta Gol 0-0 Torino-Milani-X2 C'è posta Pareggio secondo me Sassuolo-Cagliari-X2 No Vincere Sassuolo No, ma ho detto che vincere Sassuolo Per me è più 1-X Ah, vabbè Per me è X2 Sassuolo-Cagliari-X2 Monza-Frosilone 1-X No, ma con questa X2 Gol Per me è 1-X Mettila in gol Udine-Sempoli 1-X X2 0-0 No Sì No Sì Inter-Lazio-Gol Sì 0-0 Roma-Genua Gol Sì 0-0 Salernitana-Verona 1-X No 0-0 X2 X2 Per te No Per me arriverà lo scherzo La Salernitana Colpo di Coda L'ha dato con la Juve Ok, muovete Bologna-Juve 1-X Sì, c'è posta Sì, c'è posta Non vince la Juve Non vince la Juve Tutti 0-0 Mai successo Nella storia della serie Non lo so se è mai successo In dieci partite Non si segnava in paura Non lo so Allora, sfida Alla Schedina Riportate i vostri risultati Se avete partecipato Nello scorso contenuto Dino la tua Schedina Lazio-Empoli 2-0 Mortacci Tu l'hai preso Capirai Genoa Sassuolo 1-1 Sbagliata Verona-Torino 1-1 Sbagliata Juventus-Salernitana 2-1 Sbagliata Leccio-Dinese 1-1 Partita bonus Sbagliata Verona-Torino 2-1 Verona-Torino 1-2 Sbagliata Per quello Mi sono confuso Quando si è Volevo detto io Juventus-Salernitana 2-0 Partita bonus Leccio-Dinese 2-2 Fiorentina-Punza 1-1 C'erano Sbagliata E Genoa-Sassuolo 2-1 Partita bonus Presa 1-1 Non vincerai mai Partita bonus No So scherzare 1-1 19 punti per te Quindi 19 Indovinate Tra virgolette Perché poi Avrei preso anche Il doppio punto Quindi tanto 34 34 5 vittorie per te 16 16 Rimaniamo a 16 Perché questa L'abbiamo pareggiata Nuova sfida Potete partecipare anche voi Delle 10 partite Della 37 Ma ne scegliete 5 5 risultati esatti Tra le 5 Un match of the match O partita bonus Lo scegliete Se beccate quello Vale doppio Le altre Se beccate valgono un punto Vince chi fa più punti Lecci vai Lecci-Atalanta 1-2 Torino-Milan 1-1 Sassuolo-Cagliari 2-1 Udinese-Empoli 0-0 Come ho detto poco fa Salernitana-Verona 1-2 La mia Sassuolo-Cagliari 1-1 Monza-Frosilone 1-1 Udinese-Empoli 1-1 Roma-Genoa 2-1 E Salernitana-Verona 1-1 Abbiamo messo qualcuno uguale? Non mi pare Ti stavo a sentire Ti stavo a sentire Ma non stavo a confrontare Che mie Risultati Fantagab Perché sta fa così? Ah Le tue scelte al Fantagab Le ho preparate Questa è la mia Damme Ah ok No per un attimo Ho visto che tutte e due Havano questo stesso portiere Ma con punteggio diverso Che ci avevi in porta? Consigli Meno 2 Carnesecchi Meno 1 In difesa Posh Più 3 Calabria 0 Io guardo Il primo gol In serie De quest'anno Ovviamente Eh sì Ma tu te rendi conto L'anno scorso Non so quanti Nha fatti Ma Sei Altissimi Sinistra Centrocamp Samarzic Più 3 Non ce ne posso credere Non ce ne posso credere Gudmundson da capitano 0 A destra Luis Alberto 0 Non è l'anno Io Rabbio più 2,5 Perché è stato ammunito Nonostante il gol E in attacco Scamacca da capitano Più 2 per l'assist C'è un parole Immobile 0 Io faccio più 1,5 Io più 6 Io da più 50 Vado a più 51,5 Io da più 48 Vado a più 54 Arriva il sorpasso Quasi all'ultima curva 21 vittorie per te 12 12 Ragazzi questo è un fantacalbo Sono stato un fenomeno Da tutte le altre parti Tranne che qua Ma qua Dove di solito sono the best Già l'anno scorso Sono stato una merda Cioè simple the merda Ragazzi Mia le bestemmie Che poi questa è la cosa Il fantacalbo E' la cosa che più mi fa rosicare E' un fantacalcio E' la cosa su cui io più rosico Preferivo vince Solo questa E perde non è vero E perde tutte le art Vaffanculo Oh fantacalbo Sapete come funziona Il budget stasettimana? 100 Un portiere Difensore Due centrocampisti E un attaccante Senza sfora al budget Valgono solo i bonus e malus Senza voti Li vedete qui in culi impressione Fai scegliere il portiere Sommer Interlazio 18 crediti Scesni Bologna Juventus 17 Skorupski Bologna Juventus 16 Meret Fiorentina Napoli 13 Mandas Interlazio 12 Di Marco 24 crediti Interlazio Teo Hernandez 15 Torino Milan Posch 11 Vada in tiglie Un'altra volta Bologna Juve Moio Te sei messo Cambiaso 11 Bologna Juve Lazzari 6 Interlazio Vai Centrocampista Orsolini Orsolini Bologna Juventus 24 crediti Politano Fiorentina Napoli 23 Pellegrini Roma Genoa 22 Buonaventura Fiorentina Napoli 20 Mkhitaryan Interlazio 20 Pulisic 29 Crediti Torino Milan De Ketelar 24 crediti Lecce Atalanta Colpani 23 crediti Monza Frosinone Luis Alberto 21 crediti Lazio Inter Rabbio Ancora una volta 16 crediti Bologna Juve Manca l'attaccante Lautaro Martínez Interlazio 42 Crediti Vlaovic Bologna Juventus 28 Lukaku Romageno 23 Immobile Interlazio 16 Simeone Fiorentina Napoli 4 Le vostre scelte Fatele nei commenti Non dimenticate il capitano Queste sono le nostre 3 2 1 Vai Mandas Cambiaso Orsolini Pulisic Lukaku Beret Di Marco Pellegrini Pulisic Simeone Capitano Ah capitano Penna Oh ma non abbiamo scelto la partita bonus O la scegliamo Sì Siamo dimenticati 3 2 1 Ci devo sperare fino all'ultimo Questo ci deve segnare Ci serve Io ho messo il giocatore da Roma Io pure Vai Allora non abbiamo messo il capitano La partita bonus La partita bonus Questa mia Questa tua Vai Metti Io vado su Io vado abbastanza tranquillo 3 2 1 La stessa La stessa Tu una 1 Io 0 a 0 Oh my gosh Gabo per un calcio extra Ma aspettiamo Che c'è un sacco di cose da far vedere Alla prossima Bella La stessa La stessa